Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di lunedì 11 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi che in prima pagina in evidenza mette una notizia di carattere economico. L'edilizia corre con vaia, lavori per 140 milioni. Attivati numerosi cantieri in tutta la provincia per ripristinare i danni causati dalla tempesta e ora le imprese guardano ai mondiali e alle olimpiadi. Su questo fronte ci aspettavamo di più. Questo uno dei commenti raccolti dal giornale che come fotonotizia della prima pagina mette l'esordio della stagione dello sci. A Colgallina apre col botto la stagione dello sci perché grazie alle ultime nevicate hanno potuto aprire gli impianti sul falzarego ed è così iniziata la stagione sciistica. La prima pagina che poi il giornale dedica alla provincia di Belluno riprende il titolo di cui abbiamo detto riguardo alla edilizia in ripresa per merito di vaia. È un buon momento per le ristrutturazioni, merito degli incentivi. Questo è un altro titolo proposto sul tema dal Corriere delle Alpi. Dolomiti, weekend più costosi negli hotel, turisti attenti alle occasioni e poco fedeli alle località. Prezzi alle stelle per i fine settimana torneranno le settimane bianche. Reddito di cittadinanza, in 90 trovano un impiego. Su oltre 700 per settori dell'intenità un centinaio è stato sistemato. Alla chiamata dei centri per l'impiego altri 85 avevano trovato una occupazione. Entro dicembre tutti dovranno sostenere il colloquio pena l'esclusione da questo beneficio. Andiamo ancora avanti sul giornale. Ritrovato il corpo di Manuel Bratti, giovane di Castellavazzo, la salma dell'ex consigliere individuata nel Piave a Murapagani da un drone. Il presidente dell'Atletica all'Ungarone Amadio e l'ex preside Pisello era un vulcano di idee. Gli ambientalisti no alla svendita. Svendita, sì all'UNESCO. Si tratta di una manifestazione che si è tenuta in consiglio. La privatizzazione dell'ex San Marco un errore da evitare. Siamo per la tutela della preziosa foresta. Torna a Sedico sabato 16 e domenica 17 in forma per l'orientamento scolastico. Una fiera per così dire che torna da qualche anno e che è solitamente molto frequentata. Ed eccoci sulla pagina di feltre. Castagno feltrino e turismo, abbinamento che funziona. Arasai le istituzioni a confronto sulle potenzialità della castanicoltura. L'onorevole De Carlo l'obiettivo è far venire qui la gente a consumare prodotti. Il WWF in campo sulla idro di feltre. Gli enti non arretrino. Il tema è quello dei controlli da imporre all'azienda per avere garanzia che la sua produzione non provochi danni all'ambiente. La comunità nata intorno al piccolo fiore Zafferano Dolomiti è un aroma condiviso. L'idea di Remo Corona ha coinvolto 50 aziende del Bellunese nel nome della spezia più pregiata. Con Dal germoglio alla vita Luca Lisot fa sua la ex tempore su legno di Belluno organizzata in occasione della festa di San Martino. Menzioni d'onore per vaia di Nicola Cozzio ed embrione di Tony Vezzo. A legami di Gianluigi Zeni il premio stampa. A Enrico Charlier il Fidapa. E poi c'è l'ampia pagina che il Corriere delle Alpi dedica alle notizie di carattere sportive. Vediamone alcune. Union, Furia Rossa per tre espulsioni e un gol annullato. E' questo il titolo che condensa la cronaca della partita del campionato di Serie D, tredicesima giornata tra l'Union Feltre e il Tamai, vinta da quest'ultimi per 1-0. Quindi sconfitta interna per la squadra feltrina. Zatta è quella maratona ai piedi del muro, corsa senza i tedeschi dell'altra parte. Atleta bellunese di riferimento sulla distanza nell'84 a Berlino ebbe un'esperienza che ancora oggi vive nella sua mente. Ma torniamo al calcio, sempre Serie D, Belluno battuto e De Agostini all'ospedale. I gialloblu perdono nettamente a Legnago per 3-0 e il tecnico alla peggio in uno scontro fortuito con il difensore Sommacal. L'allenatore sta già meglio, spiega il giornale. Gran dolore ma nulla di rotto. Vediamo poi andando oltre alcune pagine di sport a carattere nazionale. Torniamo sullo sport di casa nostra, sempre calcio. Domata l'istrana, il San Giorgio sedico guida la classifica. I gol di Vigo su rigore, Pedrozzo e Malacarne valgono tre punti, ottimo la difesa dei padroni di casa, ospiti mai pericolosi. Il sedico ha vinto quindi 3-1 ed è tornato in cima alla classifica del campionato di eccellenza. E siamo al campionato di promozione. Doppia beffa per il Cavarzano, perde al 91esimo e con un autogol. È stato sconfitto per 2-1 dal Marcon. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale Incroci a rischio. Fate qualcosa. Le Vigo e Sagronia, in balia del traffico, da anni attendono la realizzazione di due rotatorie. Ora, in 350, le sollestiano. Petizione consegnata al Comune e non mancano le accuse. La situazione peggiora. Non vogliamo più solo promesse. Andiamo all'interno del giornale. Fratelli d'Italia. Pienone per la prima. Sala affollata a sabato al Giovanni XXIII a Belluno per l'assemblea provinciale del partito. De Carlo e i troppi muri da abbattere. Siamo sempre coerenti e ciò ci premia. Due frazioni a rischio. Petizione per la viabilità. E qui ritorna con un'intera pagina di approfondimento il titolo che il Gazzettino ha lanciato come principale in prima pagina. Elisa e Gilda agli opposti, ma unite dal Madagascar. Una vive in città, l'altra nell'isola. Vogliono fare un asilo vicino ai villaggi. Prima l'invio di piccoli risparmi, poi la scuola ha preso piede. L'amicizia nata facendo escursioni. Stasera al Mazzini, la bellunese parlerà del progetto che le sta a cuore. Minacce di morte. Chiudo il bar. La titolare del pub Red Queen di Quero finisce nel mirino di un ignoto stalker e lei denuncia. È il mio ex dipendente. Nel fine settimana di Halloween una persona si è introdotta nella sua proprietà. Era mascherato, ci guardava dalla finestra. Lamont scende il sipario sulla mostra di Leonardo. 2.000 visitatori. Angar Cansiglio cresce e cerca anche un gistore. Primo bilancio delle attività a un anno dall'apertura della struttura della foresta. All'incontro anche tutte le associazioni coinvolte nello sviluppo del nuovo centro. Nell'ex base militare si organizzeranno convegni, mostre e verrà promosso il benessere del bosco. Affronta addosso in bici e cade sedicenne longaronese, soccorso dall'elicottero. Sanità al massimo ribasso. Dovete fermare quella gara. Privatizzazione del pronto soccorso scatta l'appello di Roger De Bernardin. Si tratta della struttura di Auronzo Di Cadore. Il consigliere di Santo Stefano chiede al ministro di interrompere l'appalto. Roccapietore, santuario di Santa Maria delle Grazie, ripulito dopo vaia. Grazie a tutti. Pieve di Cadore, consiglio comunale in tour. Oggi a Pozzale. Vince la forza della rinascita, assegnati tre premi ai lavori degli artisti con gli arici abbattuti dalla tempesta tra i vincitori della ex tempore di Belluno, anche l'isot di Santa Giustina. E poi inizia anche sul gazzettino di Belluno, l'ampia pagina dedicata allo sport del lunedì. Il titolo che troviamo per primo, De Agostini, paura in campo. L'allenatore del Belluno calcio costretto ad abbandonare la partita di Legnago dopo un duro scontro fortuito con il suo difensore Sommacal. Una legnata allucinante, ho temuto per le costole, è solo un forte trauma, ha spiegato. Ma mi fa molto più male la sconfitta. per 3 a 0, patita dal Belluno. Una cronoscolata del Giro 2021 in Alpago. Paolo Zanon anticipa l'idea, già coinvolti numerosi comuni. Union nella trappola del Tamai. E' questo il titolo che introduce la cronaca della sconfitta per 1 a 0, patita dalla Union Feltre in casa, appunto, contro il Tamai. Limana tre punti con brivido. Si tratta della vittoria per 3 a 1 sul Cornuda. Con il Cornuda, partita complicata, scrive il gazzettino. Sul 1 a 1, gli ospiti sbagliano il rigore che poteva cambiare le sorti della gara. Dopo lo scampato pericolo, i ragazzi di Speranza mettono il turbo, ma solo nei minuti finali segnano il gol della vittoria. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.